L'hanno avvicinato a turno per estorcergli del denaro fino ad aggredirlo in un bar la sera dell'8 gennaio scorso. È successo ad un imprenditore agroalimentare di Santeramo in Colle che ha denunciato alla polizia gli atti intimidatori subiti da 5 malviventi che oggi sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Bari. Le indagini coordinate dalla direzione distretto dell'antimafia hanno consentito di far luce sulle vessazioni subite dall'imprenditore che già nel febbraio 2016 ha subito l'incendio del veicolo probabilmente ad opera di Ilarione Losito che nell'estate dello stesso anno ha tentato di estorcere la vittima a 5.000 euro supportato negli atti intimidatori da uno degli indagati Pietro Cardinale. Quest'ultimo ha preteso in più occasioni assieme ad altri quattro complici tutti appartenenti alla malavita locale di essere assunto presso l'azienda alimentare che anno dopo anno si stava espandendo con un aumento di fatturato. Dopo la denuncia della vittima e grazie ad alcune testimonianze di persone che hanno assistito ai fatti e hanno cercato di difendere il malcapitato i poliziotti della squadra mobile hanno dato un volto e un nome ai criminali che a turno lo hanno avvicinato fino ad aggredirlo in un bar. Per Cardinale Losito e Marcello Passarelli, tutti residenti a Santeramo, l'accusa è di tentata estorsione aggravata e continuata, mentre per gli altri due complici incensurati il giudice ha previsto l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento alla vittima per non meno di 300 metri.